Un lavoro eccellente. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha parlato così di quanto fatto a San Pellegrino di Norcia, dove è giunto nell'ambito della sua visita alle aree del centro Italia colpite dal terremoto. Nella frazione proprio ieri sono state consegnate le prime 18 casette agli sfollati. Tajani ha sottolineato come l'Europa voglia stare vicino alla gente di Norcia e a tutte le popolazioni colpite dal sisma. Tra il fondo di solidarietà e quelli strutturali riusciremo a stanziare 2 miliardi di euro per la ricostruzione, ha spiegato, sottolineando come sia fondamentale far ripartire lo sviluppo economico di queste terre. Va bene, ha detto ancora il presidente del loro Parlamento, restituire gli alloggi ma questo deve avvenire contestualmente con la ripresa delle attività, a cominciare da quelle turistiche. Tajani ha anche fatto un appello a visitare Norcia e la Varnerina, magari mangiando qualche specialità del posto nei ristoranti della zona. Ad accompagnare il presidente del Parlamento europeo il sindaco Nicola Lemanno, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e il capogruppo regionale di Forza Italia Raffaele Nevi. Come avevo promesso in occasione della prima visita a Norcia su richiesta del sindaco, abbiamo deciso che la conferenza dei presidenti dei gruppi del Parlamento europeo insieme ai vicepresidenti del Parlamento europeo ci riuniremo qui per ricordare il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma e per far capire che l'Europa non è l'Europa della burocrazia di Bruxelles, l'Europa non è un castello con il ponte levatoio alzato ma è una istituzione, una realtà fatta di cittadini di tante comunità e l'Europa delle istituzioni sarà vicina alla gente di Norcia e attraverso la gente di Norcia sarà vicina a tutti i cittadini che sono stati vittime del terremoto nell'Italia centrale. Quindi un gesto di solidarietà, un gesto politico, il presidente del Consiglio mi ha detto che se sarà possibile vorrà essere con il vertice del Parlamento europeo, ci incontreremo naturalmente anche a Roma per commemorare i 60 anni del Trattato ma vogliamo tutti quanti d'accordo, il sindaco, io e il presidente del gruppo socialista Pittella che è stato un altro sostenitore di questa iniziativa e saremo qui per dire che non ci siamo dimenticati, non vogliamo dimenticarci e faremo di tutto perché queste terre così colpite durante questi ultimi mesi non siano dimenticate neanche lontano dai confini nazionali.